Terra Amara puntate turche, Demir perde l'el prestigio della famiglia in crisi. Ci saranno tante novità nelle puntate di Terra Amara che il pubblico potrà seguire prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni turche della SOP rivelano che la sconfitta di Demir e Uncara alle elezioni per il presidente degli imprenditori di Kukurova metterà a rischio il prestigio della famiglia Yaman. Le anticipazioni di Terra Amara inerenti gli episodi che saranno trasmessi in Italia nelle prossime settimane riportano che Uncara, Vaide Percin, farà un nuovo sgambetto a suo figlio. Tutto inizierà quando la relazione tra la signora Yaman e Fekeli, Kerem Alizik, verrà resa pubblica tramite una soffiata anonima di Sermin, Sibel Tassioglu, alla stampa. In preda all'ira, Demir caccerà fuori di casa la madre perché non potrà tollerare che si sia innamorata dell'uomo che anni prima ha ucciso suo padre. Tuttavia, Uncara non si farà intimorire da Demir, accettando lo stesso di diventare la moglie di Fekeli. Un matrimonio che sarà annullato poco dopo, ovvero quando Zuleyye incolperà la suocera di averle fatto del male dinanzi ad Ali. In questa circostanza, la protagonista racconterà all'anziano impresario che la signora Yaman l'ha separata dal suo amato Yilmaz per obbligarla a sposare Demir. Nelle puntate turche di Terra Amara, Uncara farà ritorno a casa dopo le dimissioni di Azize. Colpita da un piccolo aneurisma, la matrona si rifiuterà di incontrare Demir, sottolineando che dovrebbe lasciare la tenuta se non dovesse essere disposto ad appianare le loro divergenze. L'imprenditore si rifiuterà di fare pace con sua madre, rea di aver compromesso il nome del padre. Accuse che saranno respinte dalla matrona, che cercherà di convincere il figlio ad allearsi con lei per respingere i complotti di tutti coloro che a Cucurova sono intenzionati a far loro del male. Per avvalorare la sua tesi, Uncara deciderà di candidarsi alle elezioni per la poltrona di presidente degli imprenditori di Cucurova in competizione con Atip, Mehmet Polat, Edemir. La signora Yaman farà in modo che i voti si disperdano tra lei e il figlio, consegnando di fatto la vittoria a Telidere con un solo punto di scarto. Una situazione che non si sarebbe verificata se madre e figlio Yaman si fossero alleati. La sconfitta alle elezioni verrà etichettata dalla stampa come uno scandalo. A questo punto, la matrona darà al figlio un ultimatum, lavorare insieme e portare avanti il nome della famiglia Yaman oppure affondare. Grazie. 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 Grazie.